Se volete acquistare i crediti FIFA andate nei link in descrizione fifagredits.com Bene ragazzi, sono Dario e bentornati dopo tanto, tanto, tanto tempo a Pink Slips Un nuovo Pink Slips, siamo oggi con i rossi Tots Oggi giochiamo con Tandè a Monaco, andiamo subito a vedere la sua squadra Porca troia mortacci tua Dico solo questo, cioè Non lo so, qualcun altro, vabbè Tiago Costa Nero, Neymar, Benzema, Ciavi, a tutti lui insomma Giovo veramente più forte della mia squadra Perché io ho la serie A Bene, piove pure E io con la pioggia faccio ridere proprio i polli Quindi stiamo proprio nella merda più totale Balutelli, guardalo che c'è stato Cervinio Vai Cervinio, vai Cervinio, vai Cervinio Il tiro di Cervinio E c'è subito la rete Cervinio, consigli 1 a 0, 1 a 0 Mamma mia, dopo 4 minuti Da paura Ecco le cazzate Le cazzate, guarda per bo così rosico Mamma mia, perché devo fare ste cazzate Sì, abbiamo avviato la presa di Natale, siete tutti? Io Tevez, se ne va Tevez, ancora Tevez Tevez, il tiro di Tevez Oddio, come se ne era andato Oddio Porca troia, porca Porca troia, porca Mannaggia Porca troia Non è possibile Gol del cazzo che ho preso Ma che palla Tevez È partito Pallodelli Pallò Cervinio 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 Cervinio, era meglio Sarà Pallodelli Cervinio Infatti, cazzo Il tiro di merda Mamma mia Ecco Pure è passato Porco cani Porco Non me fanno oltre Sì, vabbè Quest'altro va per farfalle Andiamo bene Andiamo Dove sta il fallo? Ma dove? Che cazzo Mi comincio il giro Mi comincio proprio a stare svelino Mi comincio a stare io Bella palla per Di Natale Che cazzo ha preso? No, regà No, no, no No, no, no Che cazzo ha preso? Ma chi è il portiere paletta? Finisce il primo tempo Siamo su 2 a 1 Niente Tocca tenere duro Tocca tenere durissimo Comunque abbiamo avuto due occasioni Per fare due gol Mannaggia la miseria E non l'abbiamo sfruttate Vabbè C'è sta pure questo Mamma mia a Pallodelli Se ne è andato Pallodelli Pallodelli Il tiro Oggiò che gol Oggiò che gol Mamma mia Mamma mia Regà Sto gol è qualcosa di ecco Cioè Come se ne è andato Smarcano tutti Bello Fa la sua sfruttanza Mario Pallodelli Guardate che gol Pam 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 3 a 1 E dai così Vai di Natale Vai di Natale E' partito Tevez Valtteri in porta Valtteri in porta Valtteri in porta Valtteri in porta Il tiro rete Rete E c'è la rete Di Tevez Mamma mia 4 a 1 4 a 1 Tagli 4 a 1 Finisce qui Penso sia finita Penso sia abbastanza finita Oddio Tevez Oddio Tevez E' partito E' partito ancora Balodelli E c'è pure Il 5 a 1 5 a 1 5 a 1 5 a 1 5 a 1 perché no 5 a 1 perché no Ragazzi Lo stiamo facendo nero Devo dire la verità Che sul 2 a 1 C'è avuto molta paura Di perdere la partita eh Però poi Siamo rifatti Insomma Gli abbiamo aperto il culo No 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 Mamma mia Gli stavo a regalare un gol Dello schifo proprio Oddio Oddio me l'ha regalata Vai di Natale Gio Mamma mia Che stava a fare Mamma mia Me l'andavo Tu facevo Kaycon Si beffa dell'avversario Kaycon Eeeh Fallaccio Fallaccio Deve andare fuori Deve andare fuori Rosso Rosso Dai No Non ti sei regolato Ci hai il coraggio Qui arbitro Sai che lo può fare Gervinio È uscito col portiere Gervinio lo vedi Ma Gervinio Si è ben inquadrati Ragazzi C'è poco da fare Non si può fare Un cazzo Ragazzi Voglio un mi piace Per questa partita Epica Voglio un mi piace Dobbiamo arrivare a 500 Anziché dico 600 mi piace Se volete il prossimo Big Slips Ovviamente Per partecipare Sulla pagina facebook Mettete un mi piace Restate aggiornati C'è anche instagram Eeeh Niente Noi ci becchiamo Al prossimo video Eeeh Veanlo Noi ci becchiamo 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 Noi ci becchiamo